Siccome non me la sento di venire da mamma in ospedale, ho pensato che voi andate con Miriam, vi fate dire quello che ci vuole dire e poi me lo ridete. Tanto mamma non se ne accorge. Certo, tanto mamma non se ne accorge. Ma sì, non ci vede. Ma sì, infatti. Mamma non ci vede perché noi abbiamo una mamma scema, cieca pure. Hai ragione. Io non voglio venire. No, tu invece vuoi venire. E se non me la sento? Te la senti? No, te la assicuro. Guarda, io lo so quando ce la faccio e non ce la faccio. Mamma vuole vederci, vuole dirci una cosa. Va bene, io non la voglio sentire. Ma sì che la vuoi sentire. No, non la voglio sentire. Non la voglio vedere. Ti prego, guarda, io non ce la faccio. Ti dico che ce la fai. No, lo so, sto per raggiungere il parking point. Cos'è che stai per raggiungere tu? Non ti azzardare ad alzare la voce con me. Che tu sei un passivo aggressivo con sindrome manipolatoria. Chi è che sono io? Io non ci voglio venire. È chiaro? Senti, Lara. Per favore. Eh? Siamo venuti qui apposta. Tra l'altro lo sai che non è stato facile per nessuno essere qui, no? Quindi adesso fai un bel respiro, ti chiarisci bene le idee e poi andiamo da mamma. Eh? Sei giusto. Eh? Dai. Andiamo. Andiamo. Andiamo.